Eliseo, guarda dove siamo finiti! Oh mio Dio, ma cosa sono questi così brutti? Questi sono alberi, molto, molto inquietanti, con dei sorrisi, si chiamano alberum. Oh mio Dio, ma che paura! Sì, guarda qui, peraltro, noi siamo pure in un mondo molto strano, perché se vedi, noi possiamo fare due salti. Credo che questa cosa sia un vantaggio per noi, vedi? Eh, vabbè, bisogna un po' prenderci la mano, giustamente. Ecco. Peraltro, qui sopra mi sa che c'è un qualcosa da andare a vedere, perché c'è un'isola. Ma stiamo scherzando! Eh, appunto, andiamoci, vediamo cosa c'è! Prima di andare su quest'isola qui, io direi di andare a prendere dei materiali, perché non saprei che cosa, caspita, ci aspetta lì. Vieni qua, guarda, praticamente... Non volare da altre parti, stai attento. Eh, non lo so, sto movimento è strano! Vieni qua, Eliseo, allora, stiamo attenti, ok? Dove sei finito? Eh, sono finito... Sotto, perché sei caduto, certo. Allora, adesso io ti faccio una spada, ok? Va bene. Questa cosa sarà molto... Oh, tieni. Allora, dobbiamo... Grazie. ...peraltro, adesso, anche andare a prendere un po' di ferro e di altri materiali. Uccidiamo prima sti zombie, perché stanno dando un fastidio, che giusto, bastano veramente tanto. Ecco, stai attento a non morire, mi raccomando. Eccoci, sono volato di nuovo via, ok. Allora. Oddio, guarda lì, ci stanno guardando da lontano gli alberi. Oh mio Dio. Mi sento osservato, posso dirlo? Lo sei, lo siamo tutti quanti. Siamo osservati da questi alberi veramente malvagi. Ely, inizia a scavare questo coso, questo carbone. Abbiamo un sacco... Oddio, no, 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 Ely. Tu... Ely, mi sa che sei maledetto, sei maledetto. Stai facendo strane cose, guarda. Oh mio Dio. Mi sto... Mi... Mi... Me la sto facendo sotto, aiuto. No, ma tu non sai cosa stai facendo, Ely. Non è normale. Ely, non è normale, cosa stai facendo? No, 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 mi sa che sei maledetto, Ely. Cosa mi succede? Io non vedo... Cosa hai fatto? Il tuo personaggio è maledetto, e forse anche il mio, non lo so, perché... Questo è un mondo veramente strano, ragazzi. Adesso andiamo anche su quell'isola, ma prima prendiamo questo ferro. Oddio, ragazzi, c'è qualcuno che ci spinge, tipo, palese. Allora, siamo attenti, perché in questo video potremmo anche essere spinti tante volte, mi sa, eh. A quanto sembra. Eh, non vedi? Che cacchio... Dico, certo che dico. Smetti di scavare, sei molto inquietante. Questa cosa della mod, cioè praticamente del fatto che noi possiamo saltare, è anche utile, perché adesso potremmo saltare due volte qua e salire in certi posti abbastanza strani. Comunque, vieni qua e andiamo direttamente in quest'isola qua. E si sale attraverso l'acqua. Peraltro, mi sa che è meglio andare da questa parte, perché se vedi lì sopra non va bene, non si può andare da lì. Si deve andare per forza da qui, quindi seguimi. Ok? Arrivo! Sì, intanto arrivi... Vieni, perfetto. Ok, sei storto? Ok, però... Anche tu lo sei, ma non lo dico. Ok, sì, ho capito, ma io ti vedo nel video e quindi è un problema. E lì ci siamo quasi, allora io sto salendo... Finalmente! Ok. Oh mio Dio, qua ci sono altri di questi alberi, ragazzi, che stanno sorridendo. Eh, dove sei finito? Ok, vieni, vieni, vieni. Ma cos'è questo? Questo è l'altare di Aerobrine. Ma che cosa ci fa qui? Non lo so, ma che cosa... Concentrati, stiamo col portale di Aerobrine. Cioè, col coso, l'altare di Aerobrine. Che è qua, è veramente pericoloso. Ma secondo te potrebbe esserci Aerobrine nel mondo? Secondo me... Secondo me sì, assolutamente. E purtroppo... Allora siamo morti! Alberum, purtroppo, ha anche la possibilità di spawnare tutte le varie cose. Un po' come Solar, che tu ormai lo conosci perché comunque hai guardato tutti i miei video. Guarda che Solar è veramente un pazzo, eh. Perché può spawnare tutte le cose. È un po' come Alberum. Ma Alberum non fa solo questo. Alberum ti fa anche risate strane. E ti osserva. E riesce effettivamente ad osservarti meglio di Solar. Perché se ci pensi, gli alberi sono ovunque. Eh, in effetti è vero, hai ragione. Guarda qua invece, piuttosto che fare tutta sta... Che cosa? Praticamente, vedi qui che cacchio c'è? Cosa... Cosa vedi? Non vedi che ci sono delle... Delle ragnatette? No, sarebbero tipo dei filinaria. Ah, delle stringhe! Delle stringhe! Com'è possibile? Ok, strana cosa. Ma non concentriamoci troppo su dettagli. Oh, Ellie, cos'è sta cosa? L'hai sentito? Questa mi sa che è l'isola che si sta ribellando. Che si è arrabbiata, quest'isola qui. Andiamocene via, 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 via. Oddio, oddio, oddio. Cadi nell'acqua, mi raccomando. Allora, siamo caduti nell'acqua, quindi siamo sopravvissuti. Ecco. Oh! No, 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 no. C'è lo zombie che spavento. Mio Dio, mi ha spaventato tantissimo. Zombie schifoso. Cos'era quell'urlo, però? Non lo so. Che cosa potrebbe essere? Aerobrine. Aerobrine? Forse gli alberi. Potrebbero essere più gli alberi, magari. Ellie, c'è uno zombie. Non vorrei che sia uno scagnotto degli alberi cattivi. Tu dove sei finito? Eh, non lo so. Sono qui. Sto cercando di salire qua. Visto il movimento strano, sai un po' com'è. Ma scusa un attimo, io come faccio ad avere un letto? Dormirò allora, dato che ho un letto. Non so se però devi dormire anche tu. Eh, mi sa che devo dormire anche io. Allora, facciamo così. Esci dal mondo? Perfetto, abbiamo dormito. Allora, adesso dovremmo fare anche un letto immediatamente per te. Senti. Eh sì. Adesso andiamocene in giro. Dobbiamo... Peraltro, vedi che ogni albero ha una faccia diversa. Questo albero qui ha una faccia diversa da questo. E poi probabilmente ci sono altri alberi diversi. Questi alberi... Ripa l'attenzione! Ci spiano e ci guardano in modo veramente inquietante. E questo... Ecco. Dobbiamo ricordarcene, Eli. Perché è veramente un key factor. Proprio una cosa importante da ricordarci, questa qua. Ogni albero... Ah, le sue proprietà! C'era un creeper pure che mi uccideva. Vedi, forse... Salto scagnoso! Eh, ma non credo che siano scagnosi. Questi sono proprio mob normali. Eh, immagino di sì. Però tu non sei abbastanza... Ma come ti viene in mente di fare un altro scagnoso? Su! Perché qui siamo in pericolo, non vedi? Guarda qui. Guardati intorno. Guarda dove siamo finiti. E infatti mi sento troppo osservato e vado in panico, scusami. È anche per questo che ti spaventi. Eh, ma non devi. Perché noi qui dobbiamo essere coraggiosi. Ho capito che tu ti spaventi. No! Ok, mi so... Oddio, qualcuno mi ha spinto... Mi hai spinto tu? No. Mi sono arrivato adesso qua. Sono andato in Africa, però vieni con me. Ok, vedi? Sei saltato anche tu benissimo. Ma è sempre probabilmente questa mod, perché dobbiamo ancora capire come controllarla bene. Comunque sono abbastanza sicuro di aver sentito un passo... Dei passi oltre ai nostri. Aspetta, quali... Fermo, 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 fermo. Di cosa stai parlando? Ho sentito dei passi come se qualcuno mi stesse seguendo. E lì... Guarda un attimo. Guarda un attimo. Guardati intorno. Non vedi nulla di strano? Soltanto gli occhi. Allora, a parte... Sì, vabbè. A parte gli alberi che dico che... Non vedi che però è tutto troppo fermo? È vero. Io questa cosa la dico sempre. Secondo me non è normale che sia tutto così tanto fermo. Va bene che sono alberi, ma non c'è un'anima viva intorno a noi. Come è possibile? Sì, infatti. Poi siamo non solo noi due nel server. Quindi... Sì, appunto. È strana sta cosa. Bravo, esattamente. È molto strano. Infatti, secondo me, qua c'è gatta cicova perché non è normale. Peraltro... Oh, guarda. Abbiamo trovato nuovi tipi di alberi. Ok. Quegli alberi lì, però Eli, non hanno... Come vedi. Non hanno la faccia, è vero. E questo è una cosa strana. Io so però che ci sono tanti altri tipi di alberi. Sarebbe bello poterli trovare tutti quanti perché in effetti hanno diverse facce e probabilmente diverse proprietà. Peraltro... Eh, anche se inquietante potrebbe essere curioso. Ma ti sei di nuovo addormentato per caso? No, scusami. Allora, adesso cerchiamo... Facciamo una cosa. Non abbiamo mai provato a concentrarci sugli alberi. Cioè, tipo, a tagliarli. Quindi adesso farei una cosa. Farei un'ascia. E li taglierei direttamente con l'ascia. Vediamo un attimo che cosa fanno. Ne fai anche una per me? No. Te la fai da solo. Allora. Bene. Adesso. Tagliamo quest'albero. Oh! Ha fatto un verso strano! Oh! Hai sentito? Sì, l'ho sentito! Ma che brutto che era quel suono! Ok, mi sa che non dobbiamo tagliare gli alberi. Ma forse... Perché con questi qua che ho io in mano... Non li faceva. Vediamo un attimo se questi li fanno. No! Non ha fatto nessun verso! Allora, vedi che sono diversi. Se taglio questo qua, sentiamo un attimo... Oddio! Che cos'era? E lì... No, questa cosa non è normale. Non è normale. Allora, stiamo veramente attentissimi. Questa cosa non va assolutamente bene. Oh! C'è una pecora! Perfetto, 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 perfetto. Forse qualche buona anima ce la sta mandando. Dobbiamo fare un sacco di letti perché qua dobbiamo dormire insieme. Prendi la lana. Ok, e peraltro dobbiamo anche trovare altro cibo, eh, mi raccomando. Eh sì, non è infinito, quindi dobbiamo più sbrigarci. Esatto, non so a cosa ti riferisca tu, non è infinito. Il cibo! I soggetti... Ah, il cibo, certo, certo. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a trovare altre cose. Hai presente quell'altore che abbiamo visto nell'isola? Eh sì. Eh, io ho paura che arrivi qui, Robrain. Allora, amico mio, potrebbe benissimo arrivare qui, ehm, però facciamo che non ci preoccupiamo per il momento, ok? Io invece mi preoccupo perché non... non si sa quando potrebbe venire. Apri la bocca quando parli perché non si capisce, veramente... Corro la bocca, va bene? Va meglio, un po' meglio, sembra... Ma perché, cioè, ragazzi, allora, non si capisce quando parla, non so, ha delle difficoltà, non so dirti, prova ad andare da qualcuno di più esperto di me. Comunque, ehm, non so se qua è il posto giusto per provare a trovare delle nuove cose paranormali, perché questi alberi, purtroppo, non è che mi comunicano molte cose strane. Vediamo un attimo se hanno delle proprietà particolari. Andiamo, sì, vediamo un po' cosa potrebbe succedere. Eli, sei pronto per scavare questo albero? Io ho paura! Eh, ma secondo me invece questi non possono fare niente, perché se vedi, non hanno le facce. Guarda, anche se non hanno le facce, io non mi federei. Va bene, però siamo qua per testare, smettila di essere poco coraggioso e diventa coraggioso! Va bene! Accidenti, che pizza qua, eh, continua a saltare via, però. Scaviamo. Oh, ma non ci vedo più niente! Cosa? Ma io ci vedo ancora, cosa... Che è successo? Eh, mi sa che avevi ragione. Eli, aiuto. Che cosa sta succedendo? Non vedo niente, ho paura! No, ti prego! Ok, ha finito, ha smesso, per fortuna. Ok, non è vero che non fanno niente. Aspetta, riproviamo un attimo. Ah, ah, aiuto, aiuto! No, 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 vieni via! No, no, morire nella neve! Oddio mio, ci mancherebbe altro che adesso morire nella neve. Toti, sto scavando. No! Sono caduto pure io! Ok, perfetto, eccoci qua. Allora, vieni qua. Ce la fai? Però noi siamo ancora vivici! Eh, guarda, non... Ma, guarda... Basta essere così. Cioè, dobbiamo concentrarci e riproviamo... Riproviamo, ok? Allora, adesso io vado a riscavare, perché magari era una coincidenza. Magari, non so, c'era Aerobrine vicino. Tre, due... Cioè, vabbè, adesso senza cosa. Scavo. Oh, eh, me l'ha dato di nuovo! Allora vuol dire che veramente c'entrano questi alberi. Ma mi sembra strano, perché non hanno la faccia allora? Ragazzi, purtroppo qua c'è un vero problema. Noi... E lì stavamo facendo una cosa, non vi faccio ancora vedere niente. Noi siamo appena usciti dalla caverna, ragazzi. E purtroppo, guardate cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato questa cosa molto inquietante e... Non so come, non siamo ancora usciti da questo mondo. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Ma che legno è questo? Come caspita è possibile? Cioè, non è normale, Eli. Dovrebbe essere il legno quello scuro. Eh, sì, sì, questo è il legno di Darkoak. Però a sto punto ho paura di quello che succederà se proviamo a scavarlo. Provo io, non so. Ok, Donis, ci sei? Sto facendo! Ok, vediamo un attimo cosa succederà. Ho paura di quello che potrebbe succedere. Ah! Che male! No, Eli, ma che cacchio? Quindi mi stai dicendo che ti dà direttamente un fulmine in testa. Quanti cuori ti ha tolto? Eh, ero rimasto con un cuore. Oh mio Dio, un cuore! Cioè, stavi praticamente quasi per morire. Eh, sì! Allora non voglio farlo, non voglio farlo minimamente. Senti, dobbiamo fare un'altra cosa, un'altra prova. Dammi i materiali che ti avevo chiesto di raccogliermi anche da Nader, eccetera. Tieni. Allora, dammi qua. Perfetto. Tutto quanto. Ok. Grazie mille. Le torce di redstone. Grazie. Credo tutte? Eh, sì. Praticamente... No, va bene così, non ce ne servono altre. Praticamente, ragazzi, però, se voi... No, allora. Voi sapete che Aerobrine si spawna con degli altari. Quello che avevate visto prima... Togliti, spostati, ok. Quello che avevamo visto prima, praticamente, era un altare di quelli. Quindi, se noi facciamo adesso... Ma Dio mio, un altare così, senza però andare troppo in giro e saltare, in teoria dovrebbe andare bene. Se tu hai un flint and steel, qualcosa per accendere il fuoco... Eh, sì. Ok, perfetto. Allora, in teoria, appena mettiamo tutte le torce qua, dovrebbe essere... Eh, esserci Aerobrine. Però prima... Ok, dammi un attimo qual è il flint and steel. E adesso, questo è l'ultimo pezzo. Cosa succede adesso? Adesso, da ora in poi, dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. Purtroppo, io so bene, perché conosco bene questa cosa. Purtroppo, anche perché l'abbiamo visto con Solar, ragazzi, non so se vi ricordate. Praticamente, dovrebbe esserci Aerobrine da qualche parte nel mondo. Purtroppo lui spawna così in giro, quindi stiamo attenti a dove mettiamo i piedi. Adesso andiamo in questa foresta. E mi chiedo... Allora, se c'è Aerobrine nel mondo, allora... Vuol dire che arriverà. Se non c'è, allora vuol dire che l'esperimento che abbiamo fatto era inutile. Quindi... E lì? Che... Che cosa è successo? Ma hai preso danno! Hai preso danno? Ma ho visto che hai preso danno. Certo che hai preso danno. Smetti di scavare gli alberi. Hai scavato l'albero? No, non ho scavato l'albero. Ti favo fermo. Oh mio Dio, forse perché siamo osservati da questi alberi. Però mi sembra strano che tipo tu non... Cioè, solo tu stai prendendo danno. Io non sto prendendo nessun danno, quindi questo è abbastanza strano. Eh, magari il mondo ce l'ha con me, non lo so. Forse perché hai rotto uno di questi alberi e quindi si è arrabbiato con te. Può essere, non lo so. Può essere qualsiasi cosa, in effetti. Tutto quanto, tutti questi alberi comunque si chiamano alberum, in teoria. Quindi alberum è un'entità veramente maledetta che molte persone hanno visto anche nella vita reale. Hanno detto di, appunto, averlo visto. E hanno iniziato ad inseguirli ad una certa, con le radici dentro il terreno. Proprio ti devi immaginare una cosa veramente inquietante. Ma mio Dio, è meglio non immaginarlo. No, meglio di no. Avevano tutti un ghigno veramente malefico, tipo questi qua. Però stai con me, nella vita reale, quando te lo trovi davanti è ancora peggio. Perché non so se ti è mai capitato di spaventarti per una cosa nella vita reale. Ragazzi, se volete vedere altri video con alberum, mi raccomando, scrivetecelo assolutamente nei commenti. Perché è veramente pericoloso tutto ciò.